Allora, 120 più in l'aria stiamo, fermi, stiamo, e facciamo anche un pezzo di scena? Sì, sì, vogliamo un pezzo su, ora, dopo il marzano, un po' di fine, ora, la tira è pure la tira è stata già piena, sta volta pure il pubblico. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì, sì.